Imprese e territori nel contratto di rete, questo è il titolo del volume, presentato alla Camera di Commercio di Napoli ad opera di un'impresa con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. Il mezzogiorno d'Italia nella nostra economia è la soluzione al problema, non tanto il problema in se stesso, il 30% delle imprese si trovano nel mezzogiorno, c'è forza lavoro qualificata, le piccole e medie imprese specialmente dell'agroalimentare, dell'autospazio, tanti distretti, della fashion, calzaturiero, moda in generale, quindi una risorsa e se la Svimez ci dice dopo tanti anni di pil negativo che anche il mezzogiorno si sta riprendendo, significa che l'economia italiana sta uscendo dalle sacche della crisi. Portare l'attenzione sul tema delle imprese e territori e in particolare della forma aggregativa del modello del contratto di rete per un'impresa vuol dire dare un segnale su come, tra le diverse politiche che si possono mettere in campo, lo strumento del contratto di rete potrebbe aiutare ad attenuare un po' i gap che caratterizzano la microimpresa e la piccola impresa. Un tema imprescindibile in questo momento nel quale la crisi economica sembra alle spalle, per diffondere la cultura della rete di impresa sui territori, per contribuire a riqualificare le economie locali. Se c'è la volontà di lavorare insieme la rete funziona, quindi noi studiosi di rete a volte diciamo che non è necessaria la formalizzazione contrattuale, qui in Italia è un'opportunità per avere anche in qualche modo maggiore supporto istituzionale, però il cuore in realtà, il segreto per il successo delle reti è avere un progetto comune, condiviso e la volontà di lavorare insieme. La risposta giusta può essere anche quella di mettere insieme con il contratto di rete piccole microimprese che rappresentano peraltro la grande maggioranza della realtà del tessuto del nostro territorio e che da sole evidentemente hanno difficoltà a stare sul mercato, da sole non ce la fanno evidentemente a penetrare i mercati internazionali, a creare meccanismi virtuosi e percorsi validi per l'export, bisogna farlo insieme.